Le critiche ed il dissenso verso l'operato del Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso alla fine da parole si sono trasformate in fatti. Già all'indomani della sconfitta elettorale l'assessore Donato Di Matteo aveva manifestato tutto il suo rammarico per la debacle venuta fuori dalle urne indicando nella politica del Presidente D'Alfonso una delle cause maggiori del pessimo risultato. Ieri pomeriggio sia Di Matteo che Gero Solimo hanno rimesso nelle mani del Presidente della Giunta regionale e le proprie deleghe attraverso una lettera congiunta invitando il Presidente D'Alfonso ad azzerare il governo regionale una lettera che ha scatenato reazioni a catena all'interno del PD con il segretario regionale dimissionario Rapino che in una nota ha definito la richiesta di azzeramento della Giunta irricevibile sia sul piano istituzionale che sul piano politico. Anche Camillo D'Alessandro ha commentato la lettera mi chiedo a cosa c'entra la Giunta ed il lavoro che c'è da fare con posizioni che hanno il sapore del mettere le mani avanti ha dichiarato il neodeputato. Sulla questione questa mattina è intervenuto anche il diretto interessato il Presidente Luciano D'Alfonso che ha tagliato corto quella che ha ricevuto non è una lettera di dimissioni. Sto aspettando Lolli che mi porterà la lettera che io non ho letto mi dice che lui ha l'originale, una pergamena che io voglio leggere e capire cosa c'è scritto dopo che ho letto non ho difficoltà come è noto a far conoscere la mia posizione ho anche precisato il rapporto che c'è tra dimissioni e immissione in ruolo io mi aspetto di leggere una lettera che parli di immissione in ruolo e sono convinto che ci sarà scritto su questa pergamena. Di Matteo e Gerosolimo a meno di ripensamenti dell'ultima ora si avviano così a creare un percorso civico che potrebbe misurarsi già nelle prossime elezioni regionali.